Natale Natale è festa per la vita che nasce Natale è festa per la sete di pace Natale vuole dire amore Aperto a tutti e che tutti abbracerà Natale è festa per la vita che nasce Natale è festa per la sete di pace Natale vuole dire amore Aperto a tutti e che tutti abbracerà Amici e amiche di Televallassina, ben ritrovati. Ci troviamo a Barruccana di Seveso, nella chiesa parrocchiale dedicata a San Clemente e abbiamo qui il vicario della comunità pastorale San Pietro da Verona di Seveso, Don Massimiliano Colleoni, che ringraziamo per l'ospitalità. E siamo venuti anche quest'anno per vedere il presepio. L'anno scorso era su per aria, era sospeso, era volante. Quest'anno è sceso, ma è particolare anche quest'anno. Allora chiediamo a Don Massimiliano di spiegarcelo. Sì, come l'anno scorso il presepe volante indicava che il Natale veniva in mezzo a noi e noi siamo in mezzo al presepe e così quest'anno nel presepe abbiamo messo come statuina le foto dei bambini dell'oratorio. I bambini che hanno partecipato appunto alla preparazione del presepe li abbiamo fatti vestire, li abbiamo fotografati e sono qui presenti nel presepe. Anche questo significa proprio che il Natale viene oggi in mezzo a noi. Non è semplicemente il ricordo di un fatto storico, ma il fatto che ogni anno Gesù viene nella nostra vita e porta la sua grazia, la sua benedizione e porta appunto tutto il bene che la presenza di Dio porta nella vita di ciascuno di noi. Ecco, poi ricordiamo che qui al posto della Santa Famiglia di solito c'è la sede da cui il sacerdote presiede. Quindi anche questo è un bel segno, magari non è a norma liturgica, ma l'avere spostato la sede per lasciare posto al Signore per dire che comunque è lui che deve presiedere l'amore e la vita di una comunità, non solo quella liturgica ma quella appunto della vita quotidiana come questi bambini ci mostrano. Certo, ogni bravo pastore deve ricordarsi che l'unico pastore è Gesù e quindi la sede l'ha presa lui. Gesù non c'è appunto perché sta girando, attraversando tutte le famiglie della parrocchia. Abbiamo iniziato con la prima domenica di avvento a consegnarlo alle classi del catechismo e ogni sera va in una casa della parrocchia. Lì poi si ritrovano con gli amici, con i vicini e fanno la preghiera. Qualche volta sono andato anch'io anche questo per sottolineare appunto che Gesù viene in mezzo a noi, viene nelle nostre case. Un'altra cosa interessante è l'acqua che parte proprio dal luogo in cui metteremo Gesù. Ecco, Gesù è la fonte della vita, la fonte della speranza, l'acqua viva come ci insegna il Vangelo. Ma se hai voglia di sperare, se tu vuoi ricominciare, vieni e canta con noi. Un Natale, un Natale da favola, un Natale che porti l'allegria, che doni luce, che dia la pace. Un Natale così non si è visto mai, un Natale, un Natale da favola, un Natale di serenità. Darci la mano, canta con noi, è un Natale come tu lo vuoi.